Che cazzo è successo qui? Settore 1 delta 3, tutto bene. Dunque, dovrei evitare di essere smaciullato. Dunque, cerca un'arma. Oh, 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 oh. Dovrei far veloce. Oh! Certo che è ovvio. Che ti credi? Dunque, però devo stare attento ai ripari, perché così... Wow, 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 wow. Ricarico l'energia. Eccoci. Questa continua a sparare. Dunque, vediamo un po' che c'è qui. Ammazza, oh. Qui non c'è niente. Ah, che culo. Ci ha fatto un viaggetto per niente. Tutti questi posti devo controllare. Wow. Direi che magari... Recupero energia, non mi vede. Quindi... Ok. Andiamo ancora. Andiamo di qua, che è più vicino. Cammino, perché... Altrimenti non arrivo più. Eccoci. Forse posso continuare un po' senza... Un appuntamento. Mi hai visto, però... Io mi sono occultato, quindi va a dar via il ciao. Vediamo se c'è qualcosa di buono qua. Sembra di sì. Come no? Mi faccio tutta questa fatica, rischiando di venire polverizzato da sto coso qua. Sono stato agganciato. Però non spara. Quindi continuo. No, 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 no. Oh. Un pelo proprio. L'erba che viene scossa dalle esplosioni. Ok, ci sono. Vediamo che non mi tocca tornare indietro. Non abbiamo niente. Priorità settore 1 delta 6. Possibilità alta. Ma è possibile? Adesso mi tocca... Dove? Andare qui? 107 metri. No, dai. Uff. In realtà cosa che c'è? Oh. Aiuto. Mi sposto velocemente perché qui continuo a essere preso in pieno. E la cosa non mi piace. Mamma mia. La terra che si alza. andiamo un po'. Andiamo un po'. Oh. Che cacchio. Che cacchio mi sta guardando. Sistema d'armamento disattivato. Olè. E ora starà un po' zitto. Oh. Che cacchio. Merda. È un'arma, Chef. Niente. Non possiamo usarla. Perché no? Guarda. Tac. Ah, la prende. Oh. Cavolo. l'armina qua. Ma perché? Eccoci qua. Devo sparare a quel coso lì. Uh. Interessante. La devo trovare a un punto decente. Perché qua. Vengo sbombardato. Da tutti i lati. E mi vede. Maledetto. Schifoso. Aiuto, 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 aiuto. Ah. Devo mettere qua dietro. Perché questo mi sta menando di brutto. Uno giù. Due giù. Tre giù. E vai a fare in culo. Va che robetta. Bello, bello. Mi è piaciuto. La torre di difesa balistica 3, delta 3, è stata disattivata. Le unità di risposta raggiungano immediatamente il settore. Aggiornami sulla tua posizione. Incontriamoci. Ricevo. Sono delle mine qua. Per disattivarle, se posso. Eccoci. Perfetto. Ha un bel design quest'arma aliena. C'è gente. Controllati i testori, fronti al fuoco. Già. Cancellinger 2-1, le comunicazioni nemiche indicano che si trovano ancora nell'area. Ricevuto. Ricevuto. Ci stiamo dirigendo verso l'area. Passo. Squadra Charlie in testa. Roger. Direi di no. Sono settimane che provano a scornire con la scuola di... Dunque, vediamo un po'. Le frecce elettriche possono agire su una vasta area. Provale nel lago laggiù. Frecce elettriche, dice. Dunque, fammi vedere. Attenzione. Attività rilevata delle costure del perito. Questo cos'è? Libraggio. Libraggio basso, libraggio forte. Libraggio forte, allora. Vediamo un po' cosa fanno queste frecce. Una bella scossetta, eh? Eh, già. Facciamogli avvicinare. Oh. Facciamogli avvicinare. A tutte le unità abbiamo un escluso. Parbagliate... Isolamento di sicurezza attivo. Qui non c'è niente. Non puoi nasconderti per sempre, profe. Ti troveremo. Le... Le... Pronti al lancio delle MP. MP lanciata! Attenzione, profet. Rinforzi Sally in arrivo. Controllate l'aria dove è stato visto l'ultima volta. Oh. Eccolo! L'ho scluso che ha fatto di una corre. Di seccura isolata. Ok, devo stare in copertura. Non deve sfuggirci. Via! Uomo a terra! Uomo a terra! Avanziamo e troviamolo! La riserva principale è stata attività. Vieni fuori, affrontami comando! Stile jaguaro. Ah, è dietro la roccia. Ti vengo a prendere. Ti è occultato. C'è qualche unità viva! Verda, verda! Contatto ver... Espe... Preso a pugni. C'è ancora qualcun altro? Vediamo un po'. Sì. Basta. Scarab, scarab, scarab. Ok, sono questi. Ora questi stanno venendo qua. Non lo vedo, ma sarà lì. Dov'è? È dietro un albero. Ma com'è che si ripara questo? Fammi capire dov'è. Ah, è dietro un tronco. Ecco perché. Maledetto, schifoso. Non ho più... Praticamente una sola freccia. Si prendono tutti una copertura. Direi che... Da questo punto di vista è un'ottima intellettrizza artificiale. E anche coperture belle grosse. Non stupidi. Non puoi ascoltarti per sempre, profeti. Ti scordi. Cioè è sparito oltre... Oltre il bordo? Vabbè. Su questa sopra... Soprassediamo. Ok. Qui c'è qualcosa di interessante, magari. Isolamento di sicurezza attiti. Continuiamo allora. Attenzione! Armi Cell vicino alla tua posizione. Usami il trasmettitore. Attenzione! Attività rivela rilevata nella struttura del mezzo. Ehi! Come hai trovato quell'arma? Non ha importanza. Spero che tu sappia quello che stai facendo. Tagliamo per le gallerie verso il deposito ferroviario. Prego. Dopo di lei. Ok. Devo andare io, immagino. Ciao. Resisti? Ci sono quasi. Sai, è davvero importante. C'erano parecchie voci su di te e la tua. Mutazioni aliene, previsioni. La gente non sa più neanche che cosa sei o chi sei. Tu cosa pensi? Io sono qui, no? Ok. Facciamo piano. Ci stiamo avvicinando alle parti e sempre. Che c'è? Fai piano, cazzo. Fai piano, cazzo. Sei tu che fai il bordello. Non rompermi le balle. Che hai fatto? Sì, è un attimo puggato, però... Avranno sentito. Direi di sì. Va bene. Ci vediamo dall'altra parte. Qui cosa c'è? C'è un tantinello di gente. Ma giusto un pelo, eh. Sembra un rave party. Vediamo se riesco ad avere una posizione migliore. Devo raggiungere quel punto là. E direi che è uno scontro impari se mi mettessi a sparare a questi qua. E direi di passare oltre. evitando casini. Riprendo un po' di granate. Non ammazzo nessuno. Oh, cacchio. Recupero energia. Adesso non ci sono molte coperture. Proprio no. Ecco, magari qui. Forse, se riesco, e non mi vedono. Visto che sono tutti occhi di falco qua. Ok. Vediamo se nessuno mi vede. Ok, dai. Ok. 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 No, no, no. Tu non hai sentito. Vado a vedere. Vado su. Me lo sarò immaginato. Già. Guardi un po' di energia. No! Ma perché? Devo solo un attimo, un secondo di ricarica di energia. Ne hanno visto subito. ti copro io, profe. Lancio un EMP. Sono lassù. Cavolo. Adesso l'altro è venuto fuori allo scoperto, quindi direi che non è più il momento di avanzare. Bene. All'ultima posizione rilevata. Fare tanto i carini. su, vieni fuori con la testolina che te la faccio saltare. Dall'alto è molto meglio, decisamente. Ah, devo... È una torretta, sì. Granate. Un po' di munizioni. Oh. Ecco, forse potevo fare una cosa del tipo. Salire qui su, hackerare, vediamo, visuale oscurata. Cavolo. Ah. Insomma, volevo hackerarla dall'alto così magari uccideva i nemici al posto mio. Ma vabbè, stesso. Mantieni spazio per eseguire un salto lungo. Ok. Ecco fatto. Già. Devo cambiare arma. Che c'è? Che cazzo è successo qui? Vabbò? Pensa alle scatole nere. Scopri come sono morti. Io vado di sopra. Vedo che succede. A presto. Sì. 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 Sì.